Pellegrini, Pedevo, Quattro Giochi, Rossi, Samprema, Silvici, Silvi, Tagliamore, Faccio terzo gestione da pellegrini del Paese, Cristina Pellegrini, Pellegrini, Grazie! Grazie. Scusi, posso riprenderla? Sono altri due cittadini che mi risultano iscritti a parlare ma che non hanno compilato il modulo, quindi vi invito a compilare il modulo in volta che resta agli atti il vostro intervento. Signor Presidente, signor Vicepresidente, signor Secretario, signore e signore consigliere, buonasera. Molti mi conoscono già quanto meno di vista, se non di nome perché è da questi interventi ogni tanto vengo qui a scaldare gli anni, a rompere un po' le scatole. Comunque sono Corrado De Paulis, abito nel quartiere Bruzzano ed è da quest'inverno che abbiamo costituito un comitato spontaneo di cui sono il coordinatore. Per la stazione Ferrovia Nord, la fantomatica è fermata, che non è una stazione, della Ferrovia Nord in mezzo al parco di Bruzzano, più vicina al cimitero di Busuglio che al quartiere di Bruzzano. La futura chiusura del passaggio a livello in concomitanza con la creazione del terzo binario. E comunque permettetemi di farmi portatore dei saluti che oggi pomeriggio l'assessore Castellano mi ha incaricato di farmi portatore nei confronti della Presidentessa Bocogioni e del Consiglio. Assessore Consigliere Castellano che era oggi pomeriggio alla quinta commissione dove sono stato ascoltato in diritto al ricorso che avevo presentato al suo tempo. E che è già noto al Consiglio, per te ne avevo parlato nel corso delle ultime settimane. E che avevo poi fatto vedere sia al Presidente Bocogioni sia al Presidente della Commissione Territorio Consigliere Simo. Allora oggi pomeriggio adesso sono qui solo per ragguagliarvi su questo iter che riguarda l'insorgenza che è emersa quest'inverno in merito alle iniziative della Ferrovia Nord Milano con la nuova fermata, la proprietà di chiusura della vecchia stazione e la creazione del nuovo binario. Devo dirvi che il Presidente Sarra e i consiglieri presenti oggi in regione si sono dimostrati molto attenti all'illustrazione del ricorso che il sottoscritto come coordinatore sui miei abitanti delle vie, Friparia e Dora Valdea in Bruzzano hanno sottoposto l'attenzione degli organi competenti. Molto attenti perché molti dei consiglieri non erano una conoscenza approfondita sia della situazione del quartiere Bruzzano sia delle iniziative delle Nord. Ovviamente gli ho reguagliati di tutto quello che è successo a partire dall'accoglimento da parte di questo Consiglio e le istanze nostre di base da voi compiegati nella delibera del 27 marzo ultimo scorso di cui si fece portatore l'assessore Maran nei confronti delle Ferrovie Nord e ovviamente gli ho reguagliati anche sull'iter del tavolo tecnico che è stato prospettato e della futura conferenza dei servizi per risolvere questa situazione che a noi sta molto a cuore perché Bruzzano vorrei che fosse ben presente a tutti voi è come una grossa mela che non ha niente a che fare con la mela new yorkese è una grossa mela tagliata a metà dalle Ferrovie Nord se ci togliete quel picciuolo che è rappresentato dal collegamento tra queste due metà collegamento rappresentato dalla via Roboni del passaggio a livello a raso noi finiamo per essere parcellizzati, per essere ridotti ai minimi termini e chiusi in un cul de sac tra la superstrada Milano-Meda e la Ferrovia Nord il terzo binario che ci chiude è le vie di uscita via Fano, via Forni o via della Senna sotto per cui il nostro unico sbocco per andare o in chiesa chi ci vuole andare in farmacia o chi ci deve andare, al supermercato chi ci deve andare che è nel cuore della vecchia Bruzzano invece di 300 metri deve fare 6 chilometri perché deve andare alla cavalcavia di Cormano, scendere giù dal cimitero di Brusuglio la via Pasta e rientrare in Bruzzano dopo aver fatto 6 chilometri se non se ne vuole fare 6 dalla parte opposta con via da Seregno e il quartiere di Afori la Commissione è stata molto attenta il Presidente Sala ne ha preso atto mi ha assicurato che mi manderà a breve il verbale immagino che lo manderà anche a voi perché siete i soggetti interessati e comunque sarà onere di parte mia farlo avere al più presto appena mi verrà recapitato grazie per l'attenzione e buona serata a tutti grazie a lei e buonasera anche a lei signor Belloni Luca, la tramvamenta è stato a metodologia buonasera innanzitutto voglio leggere una breve comunicazione a parte del Comitato della Rossa sia a tutti i Presidenti che a tutti i gentili consiglieri a nome del Comitato della Goccia che ha il centro del suo interesse il futuro dell'Adera di Escazonti e della Povisa sia per quanto riguarda i spazi verbi del Bore che si presenti sia per quanto riguarda gli impatti urbanistici e comunici sociali che i futuri interventi eravano sulla nostra zona siamo qui a chiedere un aggiornamento sullo stato dell'arte e la pianificazione delle modifiche sul processo di riconoscimento della cittadinanza e sui workshop operativi coordinati dal Politecnico ricordiamo che per i punti erano stati al centro dell'incontro organizzato dal Vice Sindaco con il Consiglio di Zona 9 ai cittadini l'11 aprile 2014 poiché, come scritto dal Vice Sindaco dei Cesaris per la definizione del futuro dell'interarea, appuntamente alle zone 9 con il coordinamento del Consigliere Sene al Politecnico stiamo attivando i tre corsi di partecipazione che avrà il compito di ascoltare gli abitanti con una serie di incontri che prevediamo di cominciare a organizzare prima del mese di agosto vorremmo capire, visto che i tempi ipotizzati e le sue indicazioni non sono stati rispettati chiediamo di conoscere quali siano le nuove tipistiche quali sia ad oggi lo stato della planificazione della bonifica del primo lotto di circa 80.024 localizzati tra i gasomini e la nuova biblioteca del progetto tecnico come saranno resi noti i dati della caratterizzazione dell'area che nell'anno 11 aprile si prevedeva sarebbe terminata a maggio e più in generale vogliamo chiedere al Presidente Simi per il ruolo indicato sopra dal Vice Sindaco come si stia progettando la metodologia dell'incontro con la cittadinanza e quali mezzi di comunicazione si stia elaborando perché ha corretto e continuo flusso di informazioni con i cittadini di zona nore durante l'incontro dell'aprile del 2014 si era anche comunicato che l'area ex capa verso la stazione di vita di insomma 4 giallo verrà lasciata nel tuo restato con la conservazione della gelatura e quindi non accessibile si era ipotizzato che in quell'area si potesse prevedere un progetto di bio-risalamento e vogliamo avere aggiornamenti su questo specifico progetto l'altro dubbio che avevamo riguardava la centralità di riscaldamento che è pianificata nella zona se sia secondo voi adeguatamente collocata e se non sia forse più opportuno si torna in una zona più isolata mi permetto personalmente che tra l'altro di valutare che secondo me il bilancio energetico di quella centrale sarebbe da mettere al centro di un altro tipo di valutazione come già manifestato anche alla vice sindaco rinomiamo poi la richiesta di entrare e andare alle ex officine del gas avanzato raccontato la goccia dalla associazione di nuova zona 9 e dai cittadini tutti che intendono partecipare e proseguire il lavoro per la goccia ovviamente l'accesso sarà leggermente nei limiti e nelle costruzioni di legge che riteniamo sia possibile nella stessa modalità che rendono possibile l'accesso ai lavoratori andiati alla zona in attesa di una nostra risposta vorremmo per rivalire l'interesse della partecipazione al processo di definizione destinataria e dei suoi impatti sulla nostra zona grazie mille grazie a lei c'è un altro cittadino che fa parlare la signora Tradi signora Tradi la prima metà sotto passo nel grotto e alla presenza di attenti buonasera a tutti volevo chiedere se c'erano aggiornamenti io avevo scritto e non ho anche cortesemente risposto con la presso Buccioli di prendere sotto passo nel grotto che qui sostanzialmente è una zona a confine tra zona 9 e zona 8 mi pare che le pompe siano in zona 8 ma il problema è più grosso se vuol dire che in zona 9 perché quando le pompe non funzionano lì se incine di macchine al minuto negli orari di punta non possono passare e non lo puoi di transicare da Porto e Giaro o tornare indietro e fare la provisa per arrivare alla parte di McMorra e purtroppo basta poco ormai le pompe d'acqua sono molto frequenti bastano queste pre-pompe d'acqua 10-15 minuti 20 minuti e quindi è più grosso niente capita quasi sempre non so chi ha in mano all'utilizzo di queste pompe mi pare che sia molto deficitare quindi chiedevo se ci sono dubbi in questo senso l'altra questione di Antenne è ovviamente questa alcuni amministratori dei condomini della zona compresa tra via Siepra via Gatto via Cubisaska hanno ricevuto richieste in posa di ripetitori di cellulare sui tetti del condomino tutto il quartiere diciamo si è praticamente rifiutato tutto isolato si è rifiutato di mettere queste antenne volevo solo avendo un terreno noto non sto magari a dire le motivazioni comunque hanno firmato l'associazione genitori scuole Cubisaska l'associazione dei cittadini di Cubisaska corrispondiva San Filippone e l'istituto non comprensivo sui ragazzi per la parte sulle elementari e i miei di via Gatto è una zona tra quanto piccola abbastanza densamente popolata presiede cesili vattori e scuole ci siamo comunicati e i sindoli condomini loro sempre hanno rifiutato le offerte anche spazialmente contagiose di vota ho finito grazie grazie non ci sono più cittadini iscritti a parlare passiamo quindi alle comunicazioni da parte dei presidenti e richieste da parte dei consiglieri prima di dare la parola al presidente Simi qualche comunicazione da parte mia volevo vedere noto ma molti di voi come lo si prano già che la sala slot di via Stesani e che la sala aperta è stata diciamo per adesso è chiusa ma c'è un'ultima di sfida all'involgere l'attività di sala slot invece i locali di acciaio a traere che sono proprio le spalle anche esso ha ricevuto la vestita ad aprire da parte dei tre posti quindi sono attualmente chiusi l'altra pubblicazione riguarda invece la questione del servito riguarda tutti i consiglieri che romani dell'assemblea pubblica in Viale Carranda e che è notizia diciamo di ieri sono state aperte all'interno del comando degli spazi della polizia locale che a Passerini riguarda appunto sono state aperte alcuni sportelli dove chi ha subito dei danni può recarsi per presentare la dimontazione che serve anche a solicitare la richiesta che è già stata fatta e l'ottenimento dello stato diciamo di Canca l'altra informazione che volevo dare al consiglio riguarda Villalitta se completando il progetto esecutivo relativo al rifacimento della copertura e al restauro e al riqualificazione del piano terra quello che tutti conosciamo come ex-anagrafe il progetto è stato trasmesso alla direzione centrale per il rilascio del parere di comunità tecnico ergonomica sul progetto esecutivo e per il prosieguo autorizzativo nel mese di giugno è stata acquisita l'autorizzazione anche della sovrintendenza che è necessaria per il rilascio per la rinca in quanto di nuovo vincolato quindi sotto la saluzione della sovrintendenza la procedura di gara avrà affittabilmente corso nel mese di settembre e perché il progetto è sottoposto alle procedure semplificate del commissario l'expo i tempi dovrebbero essere rispetto al processo ordinario per quanto riguarda il licenza a seregno in merito all'arra regla mi hanno informato dopo una serie di solleggi che era in programma per venire al discorso una visita con l'impresa per stabilire le modalità di intervento che è inserito in un appalto di varie che è attualmente in fase di consegna all'impresa ho chiesto ovviamente l'esimo di sopralluogo e soprattutto i tempi di esecuzione di intervento rimanendo sempre subito a vicino da seregno sarà un'informazione su cui entrerà meglio nel dettaglio il presidente Simi sono stati assegnati i lavori che ha preso in un'esempio di Capagliara i primi lavori inizieranno il 31 luglio dureranno dal 31 luglio al 5 agosto per eliminazione dei finali che insistono sulla via stesana in Novaro e poi proseguiranno chiaramente i lavori per per le varie fasi successive per quanto riguarda la ferrovia che si parlava tra l'altro prima del passaggio di vento di Cunzano e la chiusura eccetera c'è stata una riunione con i tecnici del comune abbiamo richiesto il mantenimento della stazione venta compatibilmente con la realizzazione della passerella ciclo pedonale una passerella ciclo pedonale il meno impattante possibile e ovviamente i collegamenti regolari adeguati che garantiscano il transito del mezzo pubblico con il peraltro che ci sono impegnati a chiedere che poi abbiamo deliberato in sede di consigli di tronco e anche su questo entreranno in dettaglio il presidente Silvi a cui devo parlare grazie buonasera cercherò di essere attimo anche perché ho un'ottima comunicazione di dare comincio subito con ricordare quello che ho già detto come discorso in commissione del territorio cioè che il 17 luglio sono stati consegnati i lavori di il centro da Saregno la prima fase inizierà il giorno 31 chiaramente scusate scusate allora il giorno 31 inizialmente sembrava che bisogna assicurare la via a Stesani per molti giorni probabilmente si uscirà a farlo diciamo 4-5 giorni la chiusura completa del transito per quei giorni probabilmente ci sarà un centro sostitutivo per la settanta che probabilmente avrà passato però dovrebbe riuscire a fare anche un sistema di cantiere mobile che garantisse comunque un minimo di servizio pubblico soprattutto o meno l'autos per collegare la città si stava lottando anche di modificare leggermente per alcune settimane la posizione del mercato sia Gaeta per consentire un zero costruzzo dell'età comunque i lavori inizieranno diciamo che in teoria per Natale dovrebbe essere tutto finito ci auguriamo che tra ritardi punti al tempo che si è specificamente quando sono i nostri grossi o altre questioni si 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 Ufficialmente i lavori inizieranno a settembre. Ritengo importante che a settembre faremo una commissione aperta in cui inviteremo giustamente il Politecnico a illustrarci e discutere con il Politecnico le fasi di attenzione e soprattutto le modalità di attivazione del sforzo. Il titolo di partecipazione torna a me e si continuerà a settembre. Dopodiché, il convocato è che esiste l'ordine del giorno, ma come si tratta di un prossimo, avremo una questione che abbiamo già affrontato a due volte, che è quella della linea 42 della fermata Rossi in piccolo. Oggi ci chiedono, probabilmente, di esprimere un parere su quella fermata e poi riprenderemo una sottopera e che ne succederemo. Poi è arrivato finalmente il progetto relativo all'assunzamento del Capo in Zara, essendo comunque un periodo estivo in cui non è facile convocare, chiedere alla presenza di tecnici e così via. Ci sono già alcuni commissari, presidenti e consiglieri che sono magari in serie, quindi magari non ci siamo tutti, però mi sembrava giusto comunque, visto che sono arrivati i documenti relativi al progetto, di cominciare a portarli insieme, non fare valutazioni di sorta, ma semplicemente esaminare insieme le questioni senza di liberare l'unico, ovviamente, l'unico prossimo. Dopodiché, a settembre, quando si rientreranno i lavori, vi valuteremo insieme con le altre commissioni, le modalità del percorso, vi invito ai tecnici che hanno progettato a farci capire come mai hanno fatto alcune scelte in un'altra e così via, e poi prendremo le altre decisioni. Quindi questa è l'altra questione. L'ultima cosa, ma non l'ultima, è quella relativa alla questione del Serovienot. Ci sarà entro fine mese una pre-conferenza di servizio tra comune e regione del Serovienot. Si sta comportando delle linee guida che dovrebbero poi fociare in forgetti di massima, sia per quanto riguarda la sostituzione del passaggio di peso con un sovrappasso ciclo-pedonale, sia quella della realizzazione di un sottopasso veicolare, anche per il momento pubblico, ovviamente, in posizione decentrata rispetto all'attuale passaggio di livello, ovviamente, e altre opere relative all'accessibilità della fermata, che oggi non è per nulla accessibile dal lato est di Guzzano storica, e questo verrà in qualche modo definito attraverso la propria programma, che poi successivamente verrà siglato dopo la comune di servizio. È evidente che abbiamo ribadito come amministrazione del Comunale, come su di zona, assoluta disponibilità a qualunque misura del passaggio di livello, prima dell'apertura della passaggio generale, e chiaramente anche del sottopasso veicolare, mentre valuteremo quando, e capiremo quando, più tardi più possibile, speriamo, aprirà la fermata di Guzzano, nuova, in quanto, e oggi non è accessibile, di fatto, quando sarà accessibile lo valuteremo insieme, e cercheremo di capire se, come è il caso, di aprire una nuova fermata. Quindi, queste sono le ultime novità, prima della pausa estiva, noi ci vediamo in un gruppo prossimo a questa commissione territorio, che evidentemente va a parlare di questi due argomenti, mi chiedo di essere nella commissione molto sintetici, perché immagino ci siano molte persone che vorranno parlare, quindi un gruppo cittadini, immagino, e quindi daremo la parola chiaramente ai cittadini, e poi, perché metteremo con i domenzi di ferie anche le problematiche relative alla questione di usare. Grazie. Grazie, consigliere Mina. Sì, grazie Presidente. Buona sera a tutti e a tutti. Tre brevi comunicazioni. La prima, che sono contento di sentire che finalmente la questione del guerriero verrà risolta. La seconda, visto che sono stato uno di quelli che ha, diciamo, stressato più di tutti sulla questione del rifacimento delle strade oggetto dei lavori dell'acquedotto, ebbene, le strade sono state riparte, adesso non garantisco tutte, ma comunque i lavori stanno andando avanti bene, e, diciamo, la maggior parte delle strade oggetto appunto dello sventramento sono state riparte, quindi finalmente abbiamo delle strade efficienti e una rete dell'acquedotto efficiente. Quindi, grazie all'amministrazione. La terza cosa è una piccola segnalazione. È da pochi mesi che è stato inaugurato il campogiochi Via Le Suzzani, angolo Via Rezzo. È un campogiochi che è sorto, dove prima c'era un campo di basket, sono stati messi tanti giochi per i bambini, sono molto frequentati, è un bel luogo di socializzazione, ho notato però che alcuni giochi, anche se nuovi, presentano già degli ammaloramenti, non dovuti a atti vandalici, ma proprio a già un'usura del tempo. Allora, dico, se in otto mesi queste si sono già, cadono già nuove, si sta sfrostando, forse, forse la qualità di alcuni, no di tutti, eh, si va bene, complessivamente è bello, ma alcuni giochi, già io una guardatina ce li darei, non per altro, per far vedere a chi ha fornito i giochi che forse la qualità non era proprio all'altezza, perché voglio vedere col prossimo inverno che cosa succede. Grazie. Grazie. Vice Presidente, lo consulo. Grazie Presidente. Volevo informare il Consiglio che anche il lato di via Fratelli Grima della impalcatura riguardante la scuola elementare di via Goffredo da Busse è stato rimosso, quindi si può considerare finito il posizionamento delle finestre da tutti e tre i lati esterni della scuola elementare di via Goffredo da Busse nel mese d'agosto la scuola sarà chiusa completamente e sarà chiusa anche la segreteria perché verranno rimosse le parti in amianto che riguardavano i sotterranei della scuola di via Goffredo da Busse in particolare credo si trattasse anzi, sono certi si tratti di coperture di tubazioni. Terminato questo lavoro spero a questo punto si proceda all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui ho fatto sollecito proprio perché c'è un caso specifico che richiede l'immediato intervento a questo proposito. Terminate le mie comunicazioni come Presidente volevo invece fare una dichiarazione in quanto consigliere nei giorni scorsi ho visto le fotografie sui giornali di quello che a mio parere è un'inqualificabile azione oltre che un reato della copertura dell'autovelox di via Enrico Fermi da parte del parlamentare europeo della Lega Salvini e nella fotografia era presente anche il consigliere Belli ai piedi della scala. Da anni faccio una battaglia per la sicurezza stradale che non credo che sia un tema né di destra né di sinistra è un tema assolutamente trasversale che riguarda la vita della gente chiunque abbia passato qualche ora nella rianimazione dell'ospedale di Amiguarda o in una qualunque struttura di riabilitazione dove le persone politraumatizzate vanno a cercare di recuperare un minimo di autonomia vitale dovrebbe sapere che la sicurezza stradale è importante che consentire che si superino tutti i limiti di velocità su strade che sono urbane e che quindi hanno anche degli attraversamenti pedonali è un crimine che la sicurezza stradale non è un concetto astratto ma sono le carni e il sangue della gente che rimane sull'asfalto io mi auguro veramente che da questa vicenda parta una riflessione se volete se si vuole protestare contro le multe lo si faccia per le multe che sono realmente ingiuste una persona che a bordo di una macchina supera i limiti di velocità mette a rischio veramente la gente e non si può non si può assolutamente prendere le parti di queste persone su Cavalcavia del Ghisallo sono state date multe per persone che l'hanno percorso a 180 km 3 orari queste multe sono multe che superano i 2.000 euro io sono molto contenta e spero che si arrivi a un percorso di civiltà per cui la multa sia correlazionata anche al reddito delle persone perché evidentemente per qualcuno di loro anche una multa di 2.400 euro è poco se uno è alla guida di una Porsche o di una macchina che costa variate centinaia di 1.000 euro è giusto che paghi anche molto di più e che impari a pese del proprio portafoglio che la sicurezza è un bene prezioso grazie grazie ho iscritto a parlare il presidente Tucci però non vedo in aula ecco presidente Tucci poi capogruppo la terza e a seguire Pere Gotodaro grazie buonasera no volevo intanto volevo ringraziare i capigruppo che hanno permesso di due sopralluoghi ieri e oggi a Liseo e a Nascario volevo anche ringraziare i consiglieri che hanno partecipato perché al di là della partecipazione hanno potuto constatare quindi c'è stato anche un botta e risposta con gli addetti di Milano Sport che erano presenti con ieri a Liseo c'era l'ufficio tecnico più c'era i rappresentanti i miei DMM che è responsabile dei lavori del cantiere Aliseo compreso quello del cantiere esterno dove hanno rifatto i campi da calcio a 5-7 e oggi c'era alla piscina Scarioni c'era la responsabile dell'impianto balneare e l'ufficio tecnico con Dante Lazzera e ieri c'era anche Bruno Riva di Milano Sport che è l'ufficio tecnico volevo dire che è ovvio che la situazione non è delle migliori in entrambi i posti ma oggi abbiamo potuto vedere anche la piscina Scarioni dove si sta raggiungendo sempre di più il peggio della della gestione di un impianto sportivo comunale dato in mano a Milano Sport e quindi la dimostrazione di quanto Milano Sport non sia almeno io penso che non sia all'altezza della gestione di alcuni impianti lo vede il ritardo sul palazzetto Iseo e lo vede anche la piscina Scarioni credo che sia opportuno che dopo tre anni di confronto di dialogo di aperture per rimandare per vedere come intervenire per migliorare la situazione io penso che come consiglio di zona 9 come ho detto ieri ho detto oggi a settembre faremo due delibere una sull'Iseo e una sulla Scarioni ma devono essere due delibere che non vanno giù di fioretto perché chi non sa gestire o chi non ha voglia di investire nel migliorare le strutture pubbliche visto che Milano Sport percepisce anche finanziamenti dall'amministrazione comunale se non hanno intenzione di investire per migliorare le strutture trovino altre soluzioni la cosa scandalosa e credo che sia stato stiamo preparando una mozione urgente che abbiamo condiviso sul posto oggi pomeriggio è che l'esondazione del Seveso che ha rovinato diciamo la viabilità e non solo Cantina e quello che è è entrata nei fondi della piscina Scarioni dove sono tutti i macchinari per la depurazione dell'acqua e si è allargato quindi il fango la porcheria che è uscita dal Seveso ad oggi è ancora lì e non è stata minimamente toccata è stato detto che hanno chiamato l'impresa per farla pulire però io credo che non si possa accettare che una S.P.A. che chiama un altro servizio penso privato a oggi non abbia neanche tolto un granello di quella porcheria che è uscita dal Seveso mentre abbiamo visto Amsa che con tutti gli sforzi tutte le fatiche con tutte le problematiche condivisibili o non però l'impegno per pulire al meglio la nostra zona e le vie coinvolte dall'esondazione del Seveso qualche risultato l'ha portato lì dentro abbiamo visto il nulla anzi l'odore che stagna e aumenta nella quindi partendo da questa mozione se è stata preparata credo che partiamo anche con un richiamo all'amministrazione comunale quindi all'assessorato di competenza e a Milano Sport li richiamiamo ai loro compiti e al loro rispetto del bene pubblico per i cittadini cosa che ad oggi tre anni dall'incendio dell'Iseo ancora i lavori non sono partiti a tre anni dalla nuova gestione di Milano Sport il disastro che c'è dentro la piscina Scarioni continua a peggiorare oggi abbiamo visto addirittura che il basamento di una delle due scale ha si è adesso non ho capito non si capisce bene se è il terreno che si è abbassato o se è il basamento della scalinata che si è alzato comunque c'è un bel distacco di qualche centimetro dal terreno quindi credo che è ora di dire basta alla malgestione anche se a malincuore tocca dirlo a una gestione amministrativa del centro-sinistra grazie capogruppo la terza grazie presidente presento una prima segnalazione raccolta da un cittadino riguardo l'irrigazione pubblica rotta nel giardinetto tra via grazione e via cialdini si segnala che da qualche settimana gli irrigatori automatici che innaffiano il piccolo giardino all'incrocio tra via grazione e via cialdini creano delle fontane di acqua alte quasi due metri spargendo l'acqua dappertutto tranne dove necessario cioè sul prato sempre in tema giardinetti una segnalazione sconnessione pavimentazione giardinettica grande angolo testi dopo forti piogge sconnessioni precedenti si segnala che probabilmente a causa delle abbondanti piogge il pavimento dei giardinetti di viale pulvio testi angolo ca grande la pavimentazione ha nuove sconnessioni che si aggiungono ad alcune vecchie sconnessioni in particolare le nuove sconnessioni riguardano la parte centrale dove sono presenti le installazioni dei giochi per i bambini formata da mattonelle grigie una sconnessione presente ma non visibile ad occhio perché è sotto pavimento morbido della giustrina torre lato via matteucci è una sconnessione presente da tempo ed è un avvallamento della pavimentazione color rosa ovvero la pavimentazione a livello dell'ingresso e vicino all'entrata di viale Cagranda angolo viale Suzzani poi presentiamo come Movimento 5 Stelle una mozione che magari potrebbe far piacere anche al presidente della commissione commercio 4 Ciocchi l'oggetto è copertura wifi dei mercati comunali coperti di Milano visto che questo consiglio di zona ha effettuato diversi sopralluoghi presso i mercati comunali coperti tramite la commissione commercio visto che i concessionari dei posteggi hanno manifestato richieste di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture visto che i concessionari dei posteggi hanno segnalato l'esigenza che i mercati comunali debbano diventare più attrattivi considerato che la rete pubblica milanese fornisce la connettività wifi del comune di Milano considerato che il servizio è reso disponibile sia all'interno di alcuni edifici pubblici indoor che all'esterno outdoor in diverse piazze e strade quindi considerato anche che i mercati comunali coperti sono di proprietà del comune di Milano osservato che i luoghi sono attrattivi per una moltiplicità di fattori relativa alla bellezza alla funzionalità e a servizi collaterali osservato inoltre che la presenza del servizio wifi del comune di Milano potrebbe essere uno dei fattori che potrebbe contribuire a rendere il luogo mercato comunale coperto più attrattivo e quindi essere un elemento di innovazione e ammodernamento richiesto dai concessionari si chiede al presidente della commissione commerciale e al presidente del consiglio di zona 9 di interessarsi verso gli uffici comunali preposti alla diffusione del wifi affinché sia installata al più presto la rete wifi indoor e outdoor nei mercati comunali coperti di diffondere questa mozione a tutti i consigli di zona del comune di Milano affinché l'opportunità di installazione della rete wifi sia presa in considerazione in tutti i mercati comunali coperti del comune di Milano come un fattore di ammodernamento ed innovazione grazie è finito grazie capogruppo la terza consigliere Todaro grazie presidente sì volevo leggere una mozione il tuo oggetto è la richiesta di non aggravio dei costi dei biglietti per i musei a Milano premesso che la cultura è il motore essenziale per la crescita di un popolo e di una civiltà e per l'affermazione dei propri saperi delle proprie conoscenze che solo attivando i saperi si produce tecnologia che genera a sua volta ricchezza e progresso visto che i musei di Milano rappresentano una manifestazione importante della cultura milanese e lombarda che vedono rappresentate in questi spazi la loro storia la loro arte e i loro mestieri nonché il modo di vivere dei suoi cittadini considerato che l'adeguamento tariffario di tutti i musei cittadini proposto dalla giunta Pisapia interessa anche quei musei che fino ad oggi erano gratuiti come ad esempio l'acquario cibi che non è un museo e la galleria d'arte moderna appurato che l'aumento tariffario per i musei è percentualmente pari a circa il 60% che sembra peraltro molto gravoso e che si farà pagare anche a quei musei che nessuna passata amministrazione ha mai reso inaccessibili si chiede al signor signor sindaco di Milano l'assessore della cultura del corno e la presenza del contesto consiglio di zona 9 guccioli di farsi parte di un'altra parte nel far di considerare alla giunta la disapplicazione dell'aumento suddetto per consentire ai cittadini milanesi di riappropriarsi gratuitamente della loro cultura e quindi della loro vita senza il pagamento di ulteriori sborsi senza avere ulteriori sborsi che vanno assommarsi ai già numerosi aumenti tariffari dei servizi pubblici più importanti per lo svolgimento di una tranquilla vita sociale grazie grazie consigliere Todaro vicepresidente faregna grazie presidente avrete a fare una comunicazione e avrete a fare anche una richiesta dunque la comunicazione riguarda il Duc Prato Centenaro lunedì siamo stati convocati per una riunione insieme al Duc di Isola ho preso il testo per chiedere al settore a che punto fosse la richiesta del procedimento di riconoscimento del Duc Prato Centenaro e mi è stato riferito che al momento è stato avviato solo il procedimento riguardo al Duc 25 aprile e altri due Duc dell'altra zona di Milano perciò finché non riconosceranno questi tre Duc non si potrà avviare l'altro procedimento che comunque è ancora di là di finire anche perché bisogna trovare delle eccellenze da rivalutare nelle zone nella zona del Duc Prato perciò al momento non è stata avviata neanche la procedura di riconoscimento e questa è la comunicazione e poi la richiesta invece riguarda un abbattimento di barriere architettoniche in via Valdosso e via Valdirello questa è una richiesta che avevo già fatto alcuni anni fa e mi era stato risposto no che non si poteva procedere perché mancava il passaggio pedonale ora il passaggio pedonale è stato messo in opera rifaccio di nuovo la richiesta per mettere i ciboli per abbattere le barriere grazie grazie consigliere Faregna capo di prof. Fede Pellone grazie grazie presidente ma io volevo legarmi un po' all'intervento del presidente Pucci riguardo a questi soprollori che penso siano stati molto interessanti che è necessario perché soprattutto quello di Liseo non con gioia dico questo perché effettivamente mi spiace quello che sta succedendo in un aspetto importante che è un centro sportivo che un tempo serviva un gran vaccino di utenza soprattutto di ragazzi e oggi purtroppo è chiuso e lo paragono un po' vorrei fare un po' l'escursa di questa situazione perché perché l'abbiamo vissuta tutti dall'inizio come consiglio di zona eravamo da poco insediati e dopo l'incendio abbiamo addirittura fatto una fiaccolata e abbiamo partecipato anche diciamo con entusiasmo con tristezza ma comunque con entusiasmo a questo tipo di azione per protestare da un lato contro azioni malavitose di una criminalità organizzata che brucia delle strutture pubbliche e abbiamo apprezzato comunque che la partecipazione di numerosi assessori che avevano che siano impegnati a far sì che questo diventasse un simbolo per la lotta alla criminalità organizzata e io già in quegli anni nel 2011 dico vabbè questa giunta magari è diversa dalla nostra sicuramente farà quello che promette sono passati tre anni con dispiacere tra un po' devo constatare che non ai fatti alle parole non si sono trasferiti fatti addirittura a gennaio del 2015 c'è stato un bel articolo che è stato anche sui giornali quindi da fortuna voleva che si venisse a conoscenza di questo dove l'assessore Visconti dichiarava in maniera del tutto palese e formale che finalmente rinasce il centro sportivo Iseo iniziati i lavori per la riconificazione del palazzetto e Visconti diceva promessa mantenuta tra 90 giorni l'impianto potrà essere usato per competizioni ufficiali a quel punto il 15 gennaio noi soddisfatti non abbiamo mai voluto strumentalizzare o dire però sono già passati due anni no perché ritenevamo che l'obiettivo era quello di dare un segnale alla cittadinanza perché potesse usufruire di questo spazio purtroppo abbiamo fatto altri sopralluoghi e in questo periodo c'è stato l'ultimo sopralluoghi ufficiale da parte del Presidente della Commissione che a me ha dovuto constatare insieme a noi dell'opposizione che la situazione è ben a di là dall'avvenire anzi è peggiorata perché purtroppo e lo si vede anche da numerose foto che lo testimoniano in questo periodo oltre a quel degrado già che c'era si sono sopravvenuti furti di rame furti di tutte le attrezzature che c'erano danneggiamenti ci dormono dentro ci cucinano c'era un falò c'è un bracere dove probabilmente ci faceva del falò quindi la situazione è peggiorata e quei costi e quei tempi che erano stati promessi in 90 giorni sicuramente non sarà anche quando non si sarà neanche perché le uffici non hanno ancora detto quando partirà questo tipo di ristrutturazione sebbene la prima società non è la più valida è fallita la seconda magari adesso tornerà però manca ancora la misura antimacchia eccetera quindi siamo a situazioni diciamo normali e questo a tre anni da questa giunta a Pisapia mi fa come dire constatare con amarezza e non lo dico con gioia con amarezza che questa differenza tra il centro-destra e il centro-sinistra questa differenza tra una giunta dei fatti e una giunta delle parole non c'è non c'è proprio anzi c'è una giunta che magari riesce a far più uscire sui giornali le cose perché devo dire la verità quando io a gennaio lessi che l'Iseo parte è tutto a posto e tra poco si fracchi io ho detto caspita veramente tanto di cappello per questa giunta purtroppo tra dire e fare c'è di mezzo che magari a livello centrale delle azioni vengono fatte come l'impegno che è stato preso per petrolizzare Piazza Castello spendendo moltissimi soldi però purtroppo in periferia siamo rimasti ai livelli del centro-destra questo non mi fa piacere e mi auguro che a più presto non ho voluto presentare una mozione perché mi auguro che per correttezza perché l'obiettivo secondo me è rivalutare come decentramento la nostra forza di non presentare una mozione ma fare una delibera in cui testimoniamo questa situazione di disagio nei confronti di un assessore che da un lato richiara delle cose e dall'altro purtroppo non riesce a realizzarle grazie consigliere De Lorenzo esistono sotto la sopra l'uomo di oggi ho visto qualche cose che non andava bene la piscina Scaroni ma una cosa che ha colpito ci ha colpito tutti cioè i fan che le esedizioni del servizio sono ancora presenti nel scantinato della piscina Scaroni in maniera molto rilevante quindi presento la nostra notte è molto semplice grazie grazie consigliere De Lorenzo presidente Fagorio grazie tre comunicazioni velocissime la prima che è stato scassato il punto sulle case consulate del Senegale discuto con il consiglio ma non ho avuto fisicamente il tempo di poter esporre una relazione approfondita e complica come si fa a settembre anche se non c'era urgenza dal punto di vista dato che poi l'iniziativa sulla festa sta finizia quindi l'urgenza non c'era discuto con il consiglio ma è stato un problema di tempi di vita di famiglia la seconda comunicazione è che vorrei esprimere una solidarietà e vorrei che tutto il consiglio di zona 9 si esprimesse insieme a me con queste parole di solidarietà al consigliere di Donotto Fabio Galesi che è stato minacciato con l'istitutivo di agressione dieci giorni fa in Gia Paschereba al 30 nel quartiere di Quattoggiato e domenica siamo andati in questo stabile io sono andata a portare la testimonianza e la presenza del consiglio di zona 9 nelle case popolari che sono al confine con la zona 9 e zona 8 e quindi volevo che questo consiglio ne fosse consapevole la terza comunicazione velocissima che come tutti i giovedì da un po' di tempo a questa parte spedo due minuti del vostro tempo per parlare dei profughi siriani e in questo momento stiamo chiedendo tutta l'Italia facendo la loro voce l'individuazione di corridoi umanitari affinché queste persone smettano di morire annegate nel mare il Mediterraneo in questo giorno oggi le mie parole vanno a Mohammed che è un bimbe di un anno che è caduto dal balcone e i genitori non sono assolutamente riusciti a salvarlo quindi tutta l'Italia in questo momento piange i morti di Lampedusa piange i morti dei profughi siriani sono due milioni e mezzo di profughi ai quali vanno aggiunti in queste ore migliaia e migliaia di profughi palestinesi che percorreranno le stesse strade arriveranno a Tripoli e cercheranno di imbarcarsi in qualsiasi maniera con un balcone qualsiasi rischiando la morte durante il tragitto via terra e durante il tragitto via mare quindi ancora una volta questo giovedì io chiedo il vostro la vostra concentrazione su questo dramma dei profughi che viviamo in prima persona a Milano basta andare la mattina al Stazione Centrale grazie Sì grazie Presidente questa sera volevo anch'io segnalare perché fino a ieri non so più anzi fino a 4 della famigerata risistemazione del guardrail vicino all'ospedale Galeazzi mi felicito che ciò finalmente speriamo in tempi brevi perché quello che rappresenta un grave pericolo per la viabilità in un'area che è già sacrificata per scelte viabilistiche non molto azzeccate meritano un intervento molto più urgente e molto più rapido che vediamo ancora avvenuto questa sera presento una mozione ringrazio la Vice Presidente Loconsolo per il suo intervento veramente per la quesia volta buon atto vacuo che dimostra quanto questa amministrazione attui i confronti dei propri concittadini con la scusa ancora più spregievole di dover come tutti noi riteniamo indispensabile preservare tutelare la sicurezza di chi circola sulle strade e appellandosi anche ad avvenimenti tragici che spesso hanno riguardato molte vie ma chissà come mai magari non proprio quelle vie dove sono stati posizionati quegli strumenti indefinibili utilizzati solo per far cassa per impingare un esangue bilancio esangue data la mala gestione dell'amministrazione comunale che stasera presentiamo e presenteremo in tutti i corsi di zona e nei corsi comunali una mozione con la quale chiudiamo l'annolamento delle molte autovex per la legge molto velocemente in data 10 marzo 2014 sono stati attivati 7 sistemi di autoreosi invalibili della città considerate le migliaia di protesi di cittadini milanesi e lombardi le migliaia di multe già arrivate è ancora da notificare in seguito all'accensione dei sistemi di rilevamento delle velocità posizionate in alcuni casi in anni con limiti assurdi per la normale viabilità la scarsità se non l'insufficienza della caratteristica nelle anni in oggetto preso che Milano risulta la città più tartassata dalle multe con 170 euro pro patentato e una montata complessiva di più di 132 milioni di euro di sanzioni combinate nel suo 2013 di quel meno il 60% derivante da contravvenzioni da telecamera che tali numeri farebbero pensare più ad accanimento da necessità di fare cassa per un bilancio lacrime e sangue per i milanesi già ulteriormente tartassati che non per real opportunità di prevenzione in tema di sicurezza sulle strade cittadine questo consiglio di zona chiede al sindaco e alla giunta di annullare in autotutela tutti i verbali elevati per i sistemi autovelox in oggetto provvedendo a disattivare le attrezzature fino a uno studio cittadino che individui le strade a maggiore incidenza di sinistri e badisco io sono assolutamente fiero di quanto fatto dai nostri europarlamentari parlamentari anche consiglieri di zona scopo dimostrativo negli scorsi giorni a tutela di quei cittadini che su strade che permettono percorrenze più veloci magari per 8 10 km in più si trovano a dover affrontare delle multe esorbitanti dovute alla legge distrazione non per quei pochi delinquenti che comunque nonostante l'autovelo come dimostrato le multe a 180 a 200 allora ci vanno e non c'è presenza della polizia locale sulle strade per tutelare i cittadini che non meritano questo trattamento subito ormai negli ultimi giorni sempre più aggravato chiediamo l'annullamento di tutte le multe grazie grazie procediamo con l'oste la nostra seduta di consiglio nomino scutatori il presidente Simi il presidente Quattrociocchi il consigliere capogruppo Viganò abbiamo da ratificare il verbale 124 andiamo per ratificato passiamo al primo punto iscritto all'ordine del giorno mozione relativa alla scadenza per iscrizione ai servizi pre-scuola ai giorni serali della scuola primaria di Milano la parola al primo firmatario capogruppo la terza Gogna Gogna Scusate, prima di dare la parola al capogruppo La Terza, Mento e Sistema, c'è un refuso, gli scrutatori sono il Presidente Sime, il Presidente Quattrociocchi e il Consigliere De Lorenzo. Grazie Presidente. Mi scuso per le assenze, quindi per non aver discusso in precedenza questa mozione, in ogni caso questa tematica è stata già trattata in questo Consiglio di zona e a seguito della presentazione di questa mozione, cioè nel senso successivamente sono intervenuti dei cambiamenti. In pratica l'assessorato ha spostato i termini, portandoli di fatto al 7 settembre e ha cambiato alcune condizioni. In ogni caso noi riteniamo che le condizioni che siano state cambiate non siano soddisfacenti. Quindi nella mozione apporteremo delle modifiche, per cui includeremo tra i destinatari anche l'assessore all'educazione, e quindi includeremo la nuova comunicazione e praticamente cambieremo proprio il cuore della richiesta in cui si andrà a chiedere la reintroduzione delle 6 fasce di reddito, visto che le modifiche ha portato… Sì, scusi un attimo, quindi fate degli emendamenti? Sì, faremo… Cioè diventa una mozione nuova, quasi ex nuova? Sarà una mozione emendata. Quindi presentate degli emendamenti? Sì, che illustrerà magari… Quindi, vabbè, lascio magari, facciamo così, la parola al dibattito, visto che appunto Carraro è prenotato, dopodiché eventualmente risponderò alle domande. Capo, consigliere Carraro. Dunque, presento gli emendamenti alla mozione. Vorremmo fare la modifica innanzitutto nella sezione dei destinatari e aggiungere l'assessore all'educazione del Comune di Milano. Un'altra modifica nell'oggetto, che diventerà servizi di prescuola e giochi serali della scuola primaria di Milano, ripristino delle condizioni. Vorremmo aggiungere nella sezione visto al punto 2, la nuova comunicazione del 10-7-2014 del Comune di Milano, che di fatto sposta la scadenza al 7 settembre 2014. Le altre modifiche le vorremmo fare nel constatato che modificare al punto 2 il comunicato in i comunicati, eliminare il punto 3, modificare il punto 4 con il comunicato stabilisce... Il comunicato stabilisce un costo di 26 euro a servizio per bambino, pertanto un bambino iscritto ad entrambi i servizi pagherà il doppio di una tassa di iscrizione. Una famiglia con due figli pagherà il quadruplo. Noi vorremmo cambiarlo con ora risulta aumentato. Eliminare il punto 5 procedendo ad un nuovo versamento di 26 euro per ogni servizio richiesto. Modifiche nella sezione rilevato che, aggiungere al punto 3, alcuni genitori nel tentativo di iscriversi hanno ricevuto il messaggio allo stato attuale il servizio non viene garantito per mancanza di iscritti. Poi abbiamo delle modifiche nel si chiede, in pratica chiediamo di sostituire tutto il test della sezione con ai destinatari della presente emozione ed in particolare all'assessore educazione punto 1, la reintroduzione delle sei fasce di reddito 2, che l'aumento rispetto allo scorso anno scolastico tra tasse di iscrizione e rette mensili per ogni fascia di reddito non sia superiore al 10% totale dell'anno scolastico 2013-2014 dare risposta alla richiesta di confronto inviata ai genitori all'attenzione dell'assessore all'educazione che nessun plesso scolastico venga privato dai servizi di prescuola o giochi serali se il numero di iscritti non supera una determinata soglia a meno che di trovare soluzioni che non gravino sulle famiglie punto 5, si trovino soluzioni relative alle comunicazioni tra servizi e famiglie in modo che laddove possibile le famiglie possano comunicare in anticipo giorni di frequenza o assenza punto 6, che in nessun caso la mancanza a frequenza dei servizi venga considerata come causa di spesa inutile in quanto i servizi sono offerti se non in base a comunicazioni servizi e famiglie in base alle statistiche delle frequenze effettive punto 7, il rapporto educatore bambini torni ad essere 1 a 16 come da determina relativo al servizio settembre-dicembre 2013 consiglieri di zona 9, Movimento 5 Stelle, grazie grazie consigliere Carraro prima di dare la parola a chi si è prenotato compreso il capogruppo La Terza do la parola per questioni tecniche al direttore di settore in quanto mi pare, e adesso se mi consegnate gli emendamenti possiamo verificarlo che non sia possibile inserire dati e note successive alla data di presentazione della mozione sì, prima di esaminare nel dettaglio gli emendamenti adesso lo farò, però in linea generale ricordo che rispetto alle mozioni è possibile presentare emendamenti ma non emendamenti che vadano a stravolgere il significato della mozione stessa è possibile fare emendamenti di carattere stilistico comunque che non modifichino la sostanza e ovviamente non possono essere inseriti riferimenti ad eventi che si sono verificati successivamente alla data di presentazione della mozione stessa sarebbe una contraddizione quindi adesso guardiamo gli emendamenti e poi veniamo in attesa di capire se è possibile la realizzazione di tutti questi emendamenti sottolineo il fatto che come ho già relazionato nello scorso consiglio la gestione del servizio prescuola giochi serali è stata definita è stata definita sperimentale quindi al termine di quest'anno si potranno apportare le modifiche ritenute necessarie detto questo non porre alcun limite alla creazione della classe significa che potremmo trovarci a gestire una classe di prescuola giochi serali con un bambino cioè avremo un rapporto uno a uno con un costo veramente pazzesco da parte dell'amministrazione per quanto riguarda gli emendamenti non li ho compresi tutti e non posso analizzarli al momento perché li sta analizzando il presidente però indubbiamente per quello che ho capito non sono del tutto condivisibili quindi ripeto il discorso è di tipo economico cioè deve essere un discorso sostenibile dal punto di vista economico ma soprattutto è un tentativo di far sì che nelle classi siano frequentanti i bambini che obiettivamente frequentano un certo numero con una certa regolarità la presenza sporadica, saltuaria, magari una o due volte al mese di un bambino che viene iscritto solo come estrema razio per quando non c'è il nonno disponibile è una presenza che alla lunga diventa anche disturbante dal punto di vista didattico cioè non si può considerare il servizio giochi serali come un servizio diciamo di parcheggio per bambini che non si sa dove mettere deve avere una sua struttura didattica e quindi deve essere frequentato da bambini che lo frequentano con una certa regolarità questa è la ragione per cui non si è cambiato di granché la tariffa di frequenza ma si è agito sulla tariffa di iscrizione non lo so direttore ho esaminato gli emendamenti proposti nella prima parte sostanzialmente non ho grosse rilevazioni se non il fatto che viene fatto riferimento a un evento del 10 di luglio che andrebbe rimosso il problema nasce nelle richieste previste dalla mozione perché sono assolutamente rinnovate nel senso che sono completamente diverse da quelle originarie di conseguenza in questo caso non è possibile proporre l'emendamento tuttavia è possibile ritirare la mozione e poi ripresentarla in una nuova forma perché è un testo differente da quello presentato capogruppo la terza mi scusi direttore però secondo me sta facendo un grosso sbaglio perché questo non ha limiti quindi nella direzione in cui una mozione portata in aula possa o meno essere cambiata non ha limiti per cui qui si sta cambiando è vero si stanno cambiando 5 righe con 10 in ogni caso non lo si sta facendo di nascosto non lo si sta facendo con un colpo di stato in ogni caso il consiglio di zona discuterà e voterà di conseguenza per cui veramente guardi che la giustificazione che ha dato passi con il riferimento al nuovo comunicato ma per quanto riguarda una modifica di una mozione non può portarci una giustificazione del genere perché di lì a dire che nessuna mozione può essere emendata il passo è breve consigliere Ferrando grazie ve lo chiedo al direttore in base a quale normativa perché io cerco su tutti i regolamenti non è consentito la modifica delle mozioni secondo i termini che lei indica perché in verità a me risulta che possono essere modificate e non vedo perché anche questa non possa essere modificata tenendo conto che la storia di questa mozione la ricordiamo cioè il tema era emerso durante un consiglio di fine giugno e ci fu una sorta di imboscata politica perpetrata da parte della Presidente Loconsolo che appunto con delle modalità decisamente scorrezze dal punto di vista politico era intervenuto con una mozione che aveva messo in secondo piano questa mozione per cui c'è anche un aspetto politico che io non non tralascerei e per cui valuterei fino in fondo la fattibilità di questa mozione grazie intanto che il direttore ricontrolla gli emendamenti Capogruppo La Terza nel frattempo io volevo dare delle risposte alla Presidente Loconsolo sì volevo dare delle risposte alla Presidente Loconsolo e intanto volevo premettere una cosa visto che il consigliere Ferrando ha richiamato che questa mozione è stata già presentata diciamo mozioni su questo tema sono state già presentate con diciamo pochi con metodi poco eleganti volevo ricordare e quindi ho chiesto al direttore di settore intanto di valutare se che la convocazione la convocazione della commissione avvenuta dopo il 26 giugno che ha discusso dei giochi serali del prescuola non ravvede i termini del danno erariale in quanto una commissione viene convocata per discutere e per portare avanti una delibera nella fattispecie invece anziché una delibera è stata presentata una mozione a livello personale per cui chiedo anche qui ufficialmente in aula che questo venga analizzato venendo ad alcuni punti che la presidente Loconsolo ha osservato primo tra tutti la frequenza per quanto riguarda i bambini abbiamo anche i genitori che sono stati presenti qui la sera del consiglio del 26 giugno se ne interessa altrimenti se dobbiamo io cerco di spiegare è assurdo che si venga a dire che sia un aggravio economico il fatto che un bambino non frequenti perché da un lato se per una porzione di quello che è il costo la famiglia comunque contribuisce anche se il bambino non frequenta dall'altro c'è proprio proprio per venire incontro al fatto che una famiglia ha esigenze diverse magari ci sono soprattutto quelli che fanno i turni che per loro è difficile organizzarsi altre famiglie sanno che so che il lunedì il bambino fa pallavolo il mercoledì fa piscina quindi in questo modo riesce a combinare tutte le giornate e infatti per questo c'è un punto che è il punto 5 l'emendamento che è il punto 5 del si chiede si trovino si trovino soluzioni relative alle comunicazioni tra servizio e famiglie in modo che laddove è possibile le famiglie possano comunicare in anticipo giorni di frequenza o assenza per cui a quel punto diventerebbe sicuramente è una fatica in più però diventerebbe un servizio che si adatta meglio alle esigenze delle famiglie perché un conto è la scuola come abbiamo sempre ricordato che è una scuola dell'obbligo in cui diciamo i bambini devono seguire un certo programma didattico nel caso dei giochi del serale e del prescuola duole dirlo va incontro invece a quello che è l'esigenza della famiglia di organizzarsi col proprio lavoro in più lei dice che è stato ritoccato poco però io non capisco perché dice è stato ritoccato poco guardi per quanto riguarda personalmente io sono la mia famiglia è sempre stata in sesta fascia e ironicamente in tutto questi aumenti è la famiglia è la tipologia di famiglia che ha l'aumento minore avendo eliminato le fasce noi stiamo guardando solo gli estremi chi è gratis e chi paga il massimo e ci dimentichiamo del fatto che c'erano la seconda la terza la quarta e la quinta fascia che vanno a pagare quanto la sesta la questione del servizio al punto 4 lei ha detto le ricordo la questione che il servizio sia garantito in ogni caso infatti il punto 4 finisce così se il numero di iscritti non supera una determinata soglia a meno di trovare soluzioni che non gravano sulle famiglie cioè si deve trovare una qualche soluzione non so finora come ha funzionato in altre scuole perché l'esperienza diretta mi porta a conoscere una scuola che il servizio l'ha sempre offerto e quindi non so quali sono gli altri casi se ci sono scuole più vicine per cui si può fare uno spostamento a posteriori queste erano un po' di spiegazioni che appunto davo grazie dottor Seris ho brevemente esaminato alcuni regolamenti il principio generale vale nel senso che ad esempio il regolamento della provincia di Milano dice chiaramente che non è possibile emendare le mozioni nella misura in cui si modifica la sostanza di fatto ho guardato anche il regolamento del consiglio comunale che tuttavia non lo richiama di conseguenza si può procedere anche con l'approvazione della mozione con le indicazioni della nuova richiesta devono comunque essere tolti i riferimenti agli eventi successivi alla data di approvazione della mozione di presentazione mettiamo quindi in votazione con gli emendamenti presentati dal consigliere a carta da consigliere a carta ma la rosa deve accettare ma l'evento è il migliore ma l'evento la rosa è il migliore no è lui che lo fa ma lui è una rosa 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 chiudiamo la votazione presenti 31 favorevoli 15 contrari 16 astenuti 0 respinto siamo al punto successivo punto 2 approvazione delle iniziative presentate ad associazione Happy Days per la realizzazione di un progetto riabilitativo per anziani associazione Ausen Insieme Milano per la realizzazione dell'iniziativa denominata Università della Terza Età in zona 9 concessione di uno spazio ad uso gratuito in via Empoli per l'attività di ginnastica dolce vale di gruppo yoga dedicati agli anziani la cooperativa sociale Ikiko Mori Onlus per la realizzazione di un progetto di prevenzione sul gioco d'azzardo patologico e l'associazione Donne in Rete Onlus per la realizzazione dell'iniziativa denominata Viva il vaccino la parola alla Presidente della Commissione Politiche e Sociali Giovanna Mizzau grazie la richiamo solo brevemente perché la Commissione che è stata molto partecipata dai commissari presenti è venuta la settimana scorsa per cui abbastanza a breve allora l'associazione Epi Daisy per questo progetto riabilitativo per anziani e la Commissione propone di concedere il patrocinio gratuito e il patrocinio la concessione della palestinica Sinanna per l'associazione Hauser insieme a Milano Università della Terza Età la Commissione propone sostenere iniziativa con 1200 euro del capitolo contributi inoltre di concedere l'uso gratuito della locca grande e la stampa attraverso la civica stamperia invece per l'attività ginnastica dolce l'utilizzo gratuito del locale di Via Empoli l'associazione Chico Mori per questo progetto di prevenzione al gioco d'azzardo patrocinio gratuito e stampa delle locandine e l'associazione Donne in Rete Onlus per questa iniziativa denominata Viva il vaccino patrocino gratuito utilizzo dello spazio di Villa Litta per il giorno 22 ottobre e la stampa delle locandine grazie grazie capogruppo la terza grazie la parola vi viene data direttamente non dovete schiacciare il pulsante perché se no si impalla tutto il sistema l'acqua che siamo città chiedendo chi fa quelle quartie e quindi è un po' di pesanti di no ci sono メ che non sono 하게 5 e le salvatori sono la salvatori cagli mis non ti non ti ma ti non ti vogliono far parlare capo gruppo la terza non schiacci nulla non schiacci nulla posso andare? grazie presidente ero presente in commissione ho assistito a tutte le discussioni in particolare ho lamentato verso la presidente la mancanza di documentazione sarebbe da lamentare per tutte le iniziative ma in particolare per l'ultima presentato da Donne in Rete che ha presentato un'iniziativa dal titolo viva il vaccino ora credo che tutti quanti noi abbiamo avuto a che fare con correnti ideologiche più o meno diciamo faziose o quello che vogliamo sappiamo che in giro c'è gente che ha favore dei vaccini e gente che è contro bene allora intanto chiedo la votazione separata quello che volevo sottolineare è che abbiamo avuto modo appunto di di sentire la tipologia di iniziativa e c'è stato lasciato anche un volantino in questo volantino ci sono vari comuni che patrocinano l'iniziativa tra cui una ditta farmaceutica ora dal punto di vista nostro del Movimento 5 Stelle appoggiare un'iniziativa di questo tipo è rischiosa allora primo perché passa come un'iniziativa del Consiglio di Zona 9 secondo c'è una discussione scientifica e magari anche ideologica però ci sono medici che propendono per una parte e per l'altra anche per il vaccino da papillomavirus che è stato presentato in diciamo in questa zona in ultimo e forse più grave perché dovremmo appoggiare un'iniziativa appoggiata da una casa farmaceutica quindi io invito tutto il Consiglio di Zona a non votare l'iniziativa di Donne in Rete grazie Presidente Mizzau sì per chiarezza il volantino che è la brochure che è stata presentata da Donne in Rete era dell'iniziativa precedente dove avevano avevano dato il patrocinio i comuni dell'Interland nel nostro volantino ci sarà il patrocino del nostro Consiglio di Zona e dei Consigli di Zona che aderiranno alla proposta a questo a questo incontro come aveva detto la referente dell'iniziativa di Donne in Rete vengono anche sempre invitati le vittime da vaccino un esponente di vittime da vaccino per cui non è di parte ma comunque eventualmente anche e poi è possibile anche invitare vedremo chi indicare un medico o un pediatra della zona per cui potrà anche in zona poter dare la sua la sua intervento relativamente a questo vaccino consigliere Todaro sì grazie presidente io volevo ribadire così come in commissione l'importanza di questa di questo intervento di questa iniziativa per la formazione informazione e l'informazione che viene fatta al insomma tutta la cittadinanza su una diciamo una patologia che ad oggi è poco conosciuta sono sicuro anche almeno per quello che mi è sembrato a pelle perché non conoscevo prima questa associazione che ha presentato questa iniziativa sono sicuro della buona fede dell'associazione e così come ha detto la presidente Mizzau in effetti la proponente più volte ha ribadito che quella brochure è una brochure di una manifestazione precedente e quindi per questo voglio dire sposo la buona fede immagino che sia perché mai poi mai penso sarebbe arrivata qui con una brochure almeno logicamente non avrebbe potuto per cui l'altra cosa è ha potuto fare diversamente e l'altra cosa invece vabbè questo però è un discorso più meno di consiglio di zona però trovo che la sponsorizzazione anche di una casa farmaceutica laddove è per senza scopo di lucro in un certo qual senso ma solo a scopo informativo io personalmente non trovo niente di incontrare grazie grazie mettiamo quindi in votazioni per parti separate siamo in fase di votazione della prima iniziativa associazione happy days per un progetto riabilitativo cognitivo per anziani affetti da alzheimer siamo in fase di votazione chiudiamo la votazione presenti 30 favorevoli 30 contrari 0 astenuti 1 astenuti scusate 0 approvato passiamo alla seconda iniziativa associazione ausel insieme milano per l'università della terza età è uno spazio concesso gratuitamente via Empoli per ginnastica dolce sempre per anziani chiudiamo la votazione presenti 29 favorevoli 29 contrari 0 astenuti 0 approvato passiamo al punto al punto 3 cooperativa sociale Ikiko Mori no Auser Milano utilizzo gratuito del locale siete in via Empoli chiudiamo siamo in fase di votazione chiudiamo la votazione presenti 29 favorevoli 29 contrari 0 astenuti 0 approvato passiamo all'iniziativa 3 cooperativa sociale Ikiko Mori Onlus per la realizzazione di un progetto di prevenzione sul gioco d'azzardo siamo in fase di votazione chiudiamo la votazione presenti 31 favorevoli 31 contrari 0 astenuti 0 approvato iniziativa 4 associazione donne in rete siamo in fase di votazione siamo in fase siamo in fase di votazione chiudiamo la votazione presenti 31 favorevoli 25 contrari 3 astenuti 3 approvato mettiamo in votazione l'intera delibera siamo in fase di votazione dell'intera delibera chiudiamo la votazione presenti 30 favorevoli 30 contrari 0 astenuti 0 approvato mettiamo in votazione anche l'immediata eseguibilità chiedo supporto agli scrutatori che ovviamente saranno molto attenti in fase di votazione chiudiamo la votazione presenti 19 favorevoli 19 contrari 0 astenuti 0 l'immediata eseguibilità infruttuosa passiamo al punto successivo passiamo al punto successivo approvazione delle iniziative presentate da associazione studio 900 per la realizzazione di corsi teatrali comitati inquinini via senigallia 60 per la realizzazione di una festa di benvenuto in via senigallia 60 fondazione milano scuole civiche per l'utilizzo gratuito dell'auditorium di via leca grande 19 per l'anno accademico 2014 2015 la parola alla vicepresidente del consiglio di zona Antonella Loconsolo grazie presidente onorevole consiglio l'ufficio di presidenza riunitosi il giorno 16 luglio 2014 alle ore 20 e 30 presso la sede del consiglio di zona 9 in via Guerzioni 38 preso in esame la richiesta di patrocino dell'associazione studio 900 per l'iniziativa intitolata corsi teatrali da tenersi presso lo studio 900 in via Mena Brea e l'utilizzo dell'auditorium Cassinana e dell'anfiteatro aperto sito nella stessa struttura in Cassinana indicativamente per il giorno 20 settembre alle ore 17 al fine di realizzare uno spettacolo di presentazione dei corsi l'ufficio di presidenza in considerazione del valore culturale e artistico dell'iniziativa propone la concessione del patrocino e la concessione dell'utilizzo gratuito dell'auditorium e dell'anfiteatro di Cassinana per quanto riguarda l'iniziativa di via Senigallia l'ufficio di presidenza riunitosi sempre nella stessa data ha preso in esame la richiesta della iniziativa denominata festa di benvenuto da tenersi nel complesso di case popolari il nuovo insediamento vuole impegnarsi sul fronte della coesione sociale e vuole lavorare alla soluzione dei problemi abitativi presenti negli edifici allo scopo di creare un clima di positiva collaborazione e di solidarietà propone una giornata di attività ludiche ricreative artistiche e musicali l'ufficio di presidenza in considerazione del valore sociale aggregativo dell'iniziativa propone un finanziamento di euro 500 comprensivi di IVA da prelevarsi dai fondi MAPA carico della commissione cultura e la concessione dell'utilizzo della civica stamperia per la produzione del materiale di pubblicizzazione dell'iniziativa per finire invece non vi leggo la relazione che è un po' lunga ve la sintetizzo dicendo che la fondazione Milano scuole civiche ha chiesto l'utilizzo dell'auditorio Unca Granda perché è in fase di trasferimento della scuola presso la manifattura tabacchi ci sono stati dei ritardi nella consegna dei locali e di conseguenza ha bisogno dell'auditorio che non è molto distante dalla sede della manifattura tabacchi per il corso l'ufficio di presidenza in considerazione del valore educativo dei corsi tenuti dalla fondazione Milano scuole civiche e del rapporto convenzionale esistente tra quest'ultima e il comune di Milano esprime parere favorevole la concessione gratuita dell'auditorio Unca Granda alla fondazione stessa nelle modalità e nei tempi concordati con gli uffici del settore zona 9 considerata la particolare rilevanza dell'attività in oggetto in considerazione della necessità di garantire il rispetto del programma educativo e dell'attività didattica si stabilisce che le stesse avranno caratteri di priorità rispetto a tutte le altre iniziative già programmate o di futura programmazione presso l'auditorium Grazie Presidente Tucci Grazie io chiedo che questa delibera venga ritirata in quanto l'ufficio di presidenza non aveva il numero legale e quindi chiedo che venga stralciata dal punto e non messa in votazione grazie poi se c'è da aggiungere anzi dirò di più dirò di più così intervengo solo una volta l'ufficio di presidenza è composto dai presidenti delle commissioni permanenti e i presidenti delle commissioni permanenti erano tre su sette otto nove quelli che sono quindi non c'è il numero legale il presidente delle commissioni temporanee non fanno numero legale i vicepresidenti che sostituiscono i presidenti non fanno numero legale perché l'ufficio di presidenza come da regolamento è composto solo dai presidenti di commissione permanenti quindi essendo presenti solo in tre questa delibera a mio parere non ha i requisiti per essere posta in votazione grazie prima di dare la parola al capogruppo Fede Pellone e poi al consigliere grazie